Un Fiat Deli furgonato del 1988, un Ape Piaggio del 78 e una Fiat Panda del 94 sono i tre mezzi pubblici messi all'asta dal Comune di Fano a partire da un valore base di 50 euro. Non va la pena, secondo l'assessore allo sport Caterina Delbianco, pagare la revisione, il bollo e l'assicurazione di veicoli inutilizzati. Quindi, entro e non oltre le ore 12 del 9 aprile prossimo, sarà possibile aggiudicarseli inviando la documentazione necessaria, scaricabile dal sito www.comune.fano.ps.it. Una volta nella home page si dovrà cliccare su Albo operatorio online, poi consulta l'albo ed infine su bandi di gare e contratti pubblicati dal Comune. Le offerte dovranno essere indirizzate all'ufficio appalti e contratti e consegnate all'ufficio protocollo in via San Francesco d'Assisi 76, aperto da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30, mentre il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. Quando sono arrivata qui all'ufficio sport, a bilancio c'erano previsti 300 euro per le manutenzioni di tre mezzi. Quando gli impianti li gestiva direttamente il Comune con i dipendenti comunali, spesso il dipendente andava nell'impianto, in piscina o nei campi da calcio. Oggi che tutti i 44 impianti sono in gestione alle società, praticamente i mezzi sono completamente inutili. I 300 euro di manutenzione per ad esempio una panda degli anni 90 non servono neanche a aggiustare lo specchietto che è rotto. Ci sono delle situazioni da sistemare con le macchine. Ogni ufficio gestisce le sue macchine e noi invece stiamo valutando di trovare un pacchetto che riprenda indietro tutte le macchine e si centralizzi l'uso delle auto del Comune, perché non è possibile che ogni ufficio ha le sue auto.